Pa-pra-pa, pa-pra-pa, pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa, tra! Benvenuti al TG Pasquale a Reti Unificate. E in questo momento di Pasqua vi voglio ricordare una cosa. Natale con i tuoi e Pasqua con chi cazzo vuoi. Ah, 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 prova microfono. E quindi quando si tratta dei momenti in cui bisogna fare le persone serie e si tratta un po' di serietà, bisogna mettere la cravatta. Bisogna sempre mettere la cravatta, perché senza cravatta non si va avanti. E nonostante sia provato dalla corsa di oggi 19 chilometri a San Giovandasso, dove è stata una corsa tremenda. Ho visto dietro di me gente cadere, navi da combattimento in fiamme all'arco dei bastioni di orione, cose che voi umani non potreste immaginare. Ho visto raggi B nel buio di Antannaus, ne ho viste di tutti i colori, praticamente penultimo assoluto, penultimo pulito, di dietro di me quasi in nulla. Se avrò corso 3 chilometri è tanto, ma tanto! Quindi passiamo al discorso pasquale. E guardo il mondo da un oblò. Mi annoio un po'. Passo le notti a camminare dentro un metro. Sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò. Gettando arance da un balcone, così non va. Tiro due calce ed un pallone, e poi chissà. Non sono ancora diventato matto, ma qualcosa farò. Ma adesso no. Luna! Oh, luna! E sarà perché ti amo, e vola vola si sa, sempre più in alto si va, e vola vola con me. Il mondo è matto perché, e se l'amore non c'è, basta una sola canzone. Per fare l'amore, per fare l'amore, per il dentro di me. E perché, perché, non si sa che fa. Ci rivedremo? Non ci rivedremo? Boh, chi lo sa. E ora tocca la maratona di Russi. Come andrà a finire non lo so, ma quello che conta è che non me ne importa una bella sega. E come ho detto all'inizio, ricordatevi una cosa. Natale con i tuoi, e Pasqua con chi cazzo vuoi.